Ciao a tutti, sono Sara Barone e nel video di oggi andremo a rispondere a una richiesta di una nostra amica qui della comunità di italiano, che è Andrea, e vedremo qual è la differenza fra tre parole che sono non, no e mai. Iniziamo subito dalla prima parola non, non è un avverbio di negazione che si usa sempre prima del verbo, ad esempio non vado al centro commerciale, che significa è un non vou a un shopping, non vado, è un non vou. Oppure Avete visto dov'è la posizione di questo non? Il non si trova sempre tra il soggetto, ad esempio noi, e il verbo usciamo, noi non usciamo. Oppure avremmo potuto fare la stessa frase senza usare il soggetto e dire semplicemente non usciamo. La seconda parola è no, no. Prima di tutto la o di no è una o aperta, al contrario della parola non che la o è più chiusa. Vediamo adesso cosa significa il no. Il no è una negazione, una negazione rapida e in portoghese può significare non. Esempio Quindi, ricapitolando, il no può essere usato da solo, al contrario dell'avverbio non che deve sempre accompagnare il verbo. Non vado, non vado, è un non vou. Vediamo ora un altro esempio in un'altra situazione. Esci con noi questa sera o no? Você sai con a gente oggi a noite o no? In questo esempio vediamo di nuovo il no da solo e che rappresenta una negazione. Esci con noi questa sera o no? E ora vediamo la terza parola che è mai e che vuol dire in portoghese nunca. Vediamo un esempio di questo avverbio. Vediamo che c'è una piccola differenza rispetto al portoghese perché noi italiani usiamo la doppia negazione che vuol dire il non con il verbo e poi il mai. Quindi il mai si trova sempre dopo il verbo quando abbiamo un verbo al presente indicativo. Vediamo un altro esempio. Io non vado mai al parco. Io non vado mai al parco. Non vado mai al parco. E adesso tocca a te. Scrivi qui nei commenti una frase negativa utilizzando il non. Quindi raccontami che cosa non fai mai. E se ti è piaciuto il video, lascia il tuo mi piace e se vuoi migliorare il tuo italiano, vuoi iniziare a studiare italiano, iscriviti qua sul mio canale perché tutte le settimane io pubblico nuovi video, lezioni, curiosità sull'italiano. Quindi ci vediamo presto. Grazie mille a tutti. Un abbraccio. Ciao ciao!